Buongiorno, direi che oggi è una bellissima giornata, riapre il centro ambiente qui di Cupramontana e la cosa più bella è vedere tantissimi soci dell'Auser che hanno ripreso l'attività e devo dire con entusiasmo, questa è l'occasione anche per invitare altri volontari se vogliono venire perché le porte sono aperte. Già oggi sono in tanti e quindi un bel giorno, faccio gli auguri a tutti quanti i volontari, gli faccio i lavori di buon lavoro e direi anche ai Cuprenzi, se vogliono, tutti i sabati il centro è aperto.